Hi guys, oggi assaggiamo tanti, ma tanti, ma tantissimi snack, li ho fatti vedere solo la metà. Ok, iniziamo, questo, come si è, non si succhia. Buono, vorrei stare qua a mangiarlo via, anche se non finisce, ce l'ho bevuto a metà. Ok, questo, vabbè. Madonna, quanto l'hanno chiuso bene. Allora, ok, una sorpresa, poi c'è un cucchiaino, perché qua c'è la Nutella con qualcosa, che non so che cosa, non so, stavo per cadere, è duro però. Sette, sono dieci, non è tanto buono, però sopportabile. La sorpresa l'apriamo alla fine. Chiudo per questo. Questi, li avevo già aperti perché avevo fatto un video su TikTok. Così. Mmm, buoni. Tipo delle palline, così, un po' strane, con dei puntini rosa. Buoni. Sette su dieci. 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 Questo già mi va a fermo al cioccolato. poi, ecco sì, e'. Sette su tutti gli ingredienti, senza po' vä' a bro mua. Sette su~~~ Sette su sì, o non semi, in giudicos Mackie World. Ori, e soprattutto doing. No, ma quello non c'era reato, prego verde. è tipo un bebe con si deve succhiare i crocchi va bene, provo in grado si sono pieni ah, qua dobbiamo assaggiare anche questi sono delle palline di cioccolato buone 8 su 10 vabbè, si rilassaggio buone troppo buone queste cicche gomme io voglio prendere quella rosa no, no, è rosa poi c'è anche un hamburger che l'ho assaggiato su dicotocco Laura-Valentini oppure Barra, vabbè la più lunga buona buona perché lascia cosa bianca il pollice bianco e lì ce l'ho mh mh vabbè a inizio fa c'è una più buona però 7 7 barra 6 su 10 ma ci puoi ingogliare buona io ingoio ingoio prima poi all'inizio pensavo che era uno spray no cavolo si no si primo lecca lecca che riesco ad aprire da sola è giallo io ho paura del gusto è un strano gusto di limone dai però non è male non mostro un po' molincio io ho ripetito ok ah ok ahaha ecco la ecco la ah ah vabbè comunque da uno 10 6 fino a ora non c'è uno che mi ha proprio detto 10 a 9 questo era buono però non so quanto è chiamato ma si è chiamato 7 non mi do 8 è arrivata l'ora oddio vediamo tipo le persone che mangiavano queste cose io ho tutto ahhh non hai un braccialetto almeno questa corda si può mangiare vabbè io assaggio ma non so come si mangia vabbè e allora ASMR alleluia che sono come che non che non non ma Sì, sì, sì. Ok, è finito il momento. Perché uno è acido, quello bianco. Questo. Voi vedete tutti bianchi in realtà. Forse vedete leggermente questo, un po' di colore. Anche se mi aspettavo. Stavo di me, è buono. Troppo buono. Sette su dieci. Non sono a dimenticare il gusto. Ok. L'ho bevuto quasi tutto. Sono la metà praticamente. Non è arrivata l'ora della sorpresa. Come funziona? Mi aspettavo qualcosa di meglio. Buono. Adesso vedrò. Adesso vedrò da quelli che mi piacciono, quelli che mi sono piaciuti molto e quelli che... quasi quasi, non tanto. Quelli che mi sono piaciuti molto sono... Alleluia. 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 Sono questi rosa. Queste gomme. Questo. E questo al cioccolato. Ma c'è quello che mi sono piaciuto. Ma c'è quello che mi sono piaciuto. Ma c'è quello che mi sono piaciuto. Dai. Mi aspettavo un po' di meglio però. Eh. Va bene. Io vi saluto. Aspetta però. Mi è stata dimenticata il gusto degli altri. Dovremmo che assaggiarli tutti. Vabbè. Io tanto mangio questi. Vi saluto. Tanto come va va va. Non vi saluto. Perché vi ha avuto... Non si parla a bocca piena. Vi parlerò quando non avrò la bocca piena. Ok. Adesso non mi piace più. Comunque. Ma che devo fare? Scusatemi. Vabbè. Io vi saluto. E spero che vi abbia piaciuto questo video. E addio. E. A presto. A presto. A presto.